Sindaco, allora ieri non era un tana libera a tutti, era un primo approccio, però sembra che qualcuno forse non l'ha vista proprio in questo modo. Ci sono stati posti di Fano e del litorale dove c'era tanta tanta gente. Sì, io capisco che c'era un grande desiderio di liberazione, di avere la possibilità di fare due passi, una passeggiata dell'attività fisica e questo è comprensibile. Però dobbiamo ancora mantenere alta la guardia e mantenere il senso di responsabilità. Quindi le nuove libertà sono state quelle di fare dell'attività motoria, delle passeggiate, ma individualmente occupano il proprio nucleo familiare e questo diventa fondamentale. Soprattutto non si devono creare assembramenti. Io sono stato chiaro anche nella riunione che abbiamo fatto per disporre anche le ordinanze che qualora questo comportamento responsabile da parte dei cittadini non si verificasse, noi interveniamo in modo determinato, andremo a interdire quegli spazi che sono sovraffollati. Quindi adesso verifichiamo come vanno le cose in questa settimana, ma se verso il fine settimana ci accorgiamo che le cose prendono una piega che non riguarda la tutela della salute delle persone, interverremo in modo determinato e interdendo determinati spazi.